Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Sono stati individuati e denunciati dalla squadra mobile di Arezzo sei giovanissimi che nel mese di dicembre si sarebbero resi autori di una rissa all'interno di un locale aretino. Si sarebbero resi protagonisti di liti, aggressioni e violente risse durante una delle quali addirittura sarebbero volati in aria tavoli e sedi in un locale seminando il panico nel centro storico aretino. Adesso sei giovanissimi di cui uno minorenne sono stati identificati e denunciati all'autorità ordinaria e minorile dovranno rispondere di rissa, danneggiamento e percosse in concorso. Il primo episodio risale al 18 dicembre. La miccia che avrebbe scatenato la violenta rissa sarebbe stato un banale diverbio avvenuto all'interno del bagno di un locale. A seguito di uno spintone involontario ricevuto, uno dei ragazzi poi denunciati avrebbe cominciato ad inveire contro un coetaneo e avrebbe poi chiamato in aiuto un gruppo di amici per regolare i conti. A quel punto la situazione sarebbe diventata incandescente. Il gruppo di ragazzi avrebbe anche spintonato il titolare e gli addetti della sicurezza che tentavano di sedare la rissa, poi l'arrivo delle forze dell'ordine e la fuga dei ragazzi. Adesso sono stati individuati e denunciati dalla squadra mobile della questura di Arezzo. Alcuni di loro avrebbero anche partecipato alla violenta aggressione nei confronti di un sessantenne che si era consumata qualche settimana prima in piazza Sant'Agostino. Sono in corso adesso ulteriori indagini volte a risalire a responsabilità penali di questi giovani in relazione ad altri episodi simili avvenuti a cavallo tra la fine del 2022 e l'inizio del nuovo anno. Un anno fa era stata invece la famiglia Montan, una baby gang, a seminare il terrore in piazza Sant'Agostino. Oggi il giovane che è ritenuto dagli inquirenti il capo della banda, un cantante trepper che si faceva chiamare appunto Montana è comparso di fronte alla giudice del tribunale di Arezzo. È l'unico componente della gang ad essere giudicato dal tribunale aretino. Montana è detenuto nel carcere di Cremona, era stato allontanato da Arezzo ed era finito nella città lombarda per scontare i domiciliari a casa della madre, ma poi non avrebbe rispettato gli obblighi di legge e quindi per lui era scattato l'arresto. Il processo è stato aggiornato al prossimo 7 marzo. Degli attimi concitati si sono registrati anche alla pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo dove un uomo di 36 anni ha seminato il caos in vendo contro i sanitari e infastidendo gli altri pazienti. Non solo, quando sono intervenuti i carabinieri che lo hanno portato in caserma li ha aggrediti con calce e pugni ferendo due militari. L'uomo è stato arrestato e i due carabinieri hanno avuto invece alcuni giorni di prognosi dai sanitari. E c'è stato nella notte anche un incidente sulle strade della provincia di Arezzo uno schianto frontale alle tre tra un pullman senza passeggiari a bordo ed un furgone. E' successo a Pieve e a Maiano nella comune di Civitella in Val di Chiana. Feriti un uomo di 48 anni ed uno di 56 entrambi soccorsi in codice giallo dai sanitari del 118 e trasferiti uno all'ospedale valdarnese della Gruccia e l'altro a Lazzando Enato. Oltre ai sanitari sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi di legge. E nelle ultime ore anche in provincia di Arezzo è tornato il maltempo con piogge intense ed allagamenti. Nelle prossime ore invece potrebbe arrivare anche la neve. E' stata una mattinata di pioggia intensa ed allagamenti anche nel Retino. L'ondata di maltempo che sta interessando la Toscana ha infatti colpito anche la provincia di Arezzo. Una delle zone più interessate è quella di Rigutino dove le strade si sono riempite d'acqua. Situazioni simili a Palazzo del Peru, Albagnolo, Chiani e Rigutino. Oltre al secondo livello di guardia è invece il torrente S a Foiano. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, altrettanti gli interventi per allagamenti di strade scantinati a causa del forte maltempo. Massimo poi l'impegno della racchetta sulle strade della provincia di Arezzo. In queste ore siamo stati in tanti punti critici, più che altro sedi stradali invase dal piogge forti. Le prossime ore molto dipenderà dall'intensità delle piogge in una settimana che di per sera è già stata data come critica. Il pericolo potrebbe essere un innalzamento delle soglie dei fiumi, dei torrenti? Sì, esatto. Siamo proprio qui nel canale Maestro della Chiana. Alle nostre spalle c'è un teleidrometro con il quale noi monitoriamo i livelli dei fiumi e dei torrenti delle nostre zone. Le prossime ore, specie complice anche tutta la pioggia che è venuta in Val di Chiana, saranno da tenere quantomeno sotto controllo. Nel momento non ci sono grossi disagi però per le abitazioni, fortunatamente? Fortunatamente no, ci siamo fermati ad un passo da situazioni ben più gravi. Non si fermano gli effetti della perturbazione nord-atlantica che sta attraversando la regione toscana. Oltre a pioggia e vento, adesso in arrivo anche la neve è prevista per mercoledì 18 gennaio a quote di alta collina e montagna. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta con codice giallo per neve che interesserà tutte le zone appenniniche e quelle centro-meridionali dalla mezzanotte fino alle 20 di mercoledì. Occhi aperti quindi in particolare in Valtiberina e Casentino, ma anche sui rilievi attorno alla città e della Val di Chiana. Il procuratore della Repubblica di Arezzo, Roberto Rossi, stamani in visita alla caserma dei Carabinieri. Il magistrato è stato ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Rubertai, da tutti gli ufficiali in servizio nella provincia. Nel portare il proprio saluto a tutti i militari ha voluto ringraziarli per la collaborazione e il quotidiano impegno costantemente profuso, soffermandosi sulla professionalità dimostrata e sul rapporto di fiducia e leale collaborazione costruito nel tempo e che si è consolidato negli ultimi anni in cui ha diretto la procura a retina. Voltiamo pagina, ci spostiamo a Rigutino dove cresce l'allarme Lupi e i residenti chiedono così l'intervento delle istituzioni. A 30 metri dalla finestra di casa nostra c'era una pecora che sembrava esplosa da quanto l'avevano dilaniata. Guardando bene in giro poi abbiamo trovato un'altra pecora che era stata sgozzata però non mangiata e il maschio che me l'avevano sventrato giù nel campo di sotto però non l'avevano mangiato neanche lui. Tre pecore uccise dai lupi a Rigutino a circa 800 metri dalla statale attorno alla campagna ma dove ci sono numerose abitazioni. Alberto, Carolina e Margherita, così si chiamavano i tre esemplari si trovavano a pochi metri da una casa. Queste pecore le tenevamo lì perché ci tenessero pulito l'appezzamento non erano destinati all'alimentazione e per noi erano animali domestici come un cane, come un gatto. Quindi dover vedere uno spettacolo del genere è stato devastante anche perché siamo in una zona abitata, abbastanza abitata e fino a un po' di tempo fa queste cose qua non succedevano. I lupi si sono moltiplicati, sono sempre di più e nessuno fa niente per correre la ripare. I residenti della zona adesso hanno paura e chiedono un intervento gli ultimi avvistamenti proprio in un parco dove sono presenti anche giochi per bambini. Alle 8 di mattina, di lunedì, settimana scorsa c'erano due lupi che giravano in mezzo a queste case e la domanda è in questi parchi, quest'estate, quando ci saranno i bambini a giocare se un lupo se lo fa il problema, se quella farina da 30 kg è un cane o un bambino io non lo so, spero che non succeda niente però qualcuno ha la responsabilità, si deve prendere di questa decisione. Da Policiano a Frassinetto, da Rigutino a Vitiano i cittadini temono per se stessi e per i propri animali. Passano di giorno davanti alle case io che andavo sempre a camminare sinceramente ho smesso perché comunque c'è un po' di timore ma perché semplicemente è un animale che comunque la sua natura è quella ha le famiglie, comunque ha fatto danni, ha animali, recinti non siamo più liberi di fare una passeggiata né da soli né tantomeno con il cane, assolutamente perché comunque vengono poi braccati quindi la nostra richiesta come le mail che abbiamo già inviato alle regioni sono semplicemente di catturarli e portarli nel loro habitat nessuno ha mai chiesto che vengano abbattuti a breve nascerà anche un comitato non è tanto per i danni o roba delge ma è soltanto per la privazione e la libertà in questa zona dal 15 gennaio 2023 è attivo il trasporto gratuito per residenti in Toscana con una situazione di fragilità socio-economica una richiesta che può essere fatta solo per via telematica quest'ultimo punto ha sollevato qualche polemica ci deve essere innanzitutto una richiesta dematerializzata sempre di un ciclo di cura, di terapia quindi non è la richiesta di trasporto sanitario che faccio ma in realtà la richiesta della prestazione sanitaria Trasporti gratuiti nei luoghi di cura per le persone in difficoltà socio-economiche tutto con soglie d'accesso legate all'ISE e solamente con ricette digitali queste le nuove norme decise dalla regione toscana Ci sono una serie di voci che devono essere definite sono state definite da queste linee guida in cui la persona per esempio vive da sola oppure vive con un disabile o vive con una persona anziana ha parenti fino al terzo grado addirittura che stanno sopra i 50 km oppure è impossibilità da prendere mezzi pubblici o non può usare la macchina ecco queste sono le linee già definite due di queste voci mi definiscono una condizione di richiesta Per richiedere i voucher si dovrà compilare un'autocertificazione e il 10% delle domande sarà sottoposta a controllo e verifica La persona deve essere individuata in classi di ISEE quindi di reddito economico diciamo che va da sotto i 9.000 euro a un massimo di 18.000 euro con delle gradazioni che poi sono riportate in questo modello Il servizio potrà essere richiesto solamente con la ricetta elettronica Chi non ha capacità diciamo di utilizzare o comunque della difficoltà di utilizzare questi sistemi online può comunque accedere nei nostri punti CUP dove il personale è già stato informato dalla piattaforma ci rendono un numero, un codice che il cittadino, questo è il voucher, questo numero il cittadino può spendere in questo momento solo con le pubbliche assistenze Croce Bianca, mi si ricordi, e con la Croce Rossa Sei Toscana informa che da mercoledì 18 gennaio lo sportello rifiuti della Casa dell'Energia in via Leone Leoni 1 ad Arezzore sarà chiuso al pubblico Lo sportello riaprirà regolarmente a partire dal 20 gennaio con il consueto orario l'undì dalle 14 alle 18 il mercoledì dalle 9 alle 13 e il venerdì sempre dalle 14 alle 18 Allo sportello è possibile per le utenze del centro storico Eretino ritirare i sacchi del porta a porta E adesso ci spostiamo invece all'impianto AISA di San Zeno Oggi è stato infatti presentato il progetto di piantumazione di alberi AISA Impianti questa mattina ha presentato il progetto Bosco Fratino Sì, il nome è chiaramente evocativo delle foreste casentinesi e della riserva integrale del Salso Fratino una delle più belle del mondo e il ricordo di quella, diciamo, l'ispirazione di quella bellissima realtà naturalistica viene trasportato, guarda caso, a margine di un impianto di recupero integrale con la piantumazione di nuove specie arboree con una mixité opportuna in modo da rendere anche interessante il percorso pedonale all'interno di esse Ovviamente lo svago e la ricreazione è uno scopo secondario e lo scopo principale è quello, attraverso le specie arboree, di catturare anidride carbonica attraverso la funzione clorofilliana I conti di cui poi vi parleranno Presidente e Direttore sono particolarmente interessanti si produce ossigeno e si sottrae anidride carbonica quindi l'impronta netta di questo nuovo bosco è assolutamente negativa rispetto al sistema emissivo a dimostrazione ancora una volta che Aisa Impianti si preoccupa in maniera determinante delle questioni di tipo ambientale Ecco, quindi un rispetto per l'ambiente che avete sempre dimostrato con tante iniziative Sì, in questo caso questo primo step di 8 fornirà l'ossigeno necessario a soddisfare circa il bisogno di 20 persone sembra poco, però è il primo step di 8 e quindi si va nella direzione proprio della mitigazione del microclima ambientale della diminuzione della temperatura e anche quella volontà sempre di fare una sorta di didattica nei confronti delle scuole che troveranno qui tutto un percorso con una serie di tabernacoli che gli racconteranno appunto delle nostre foreste casentinesi Direttore, i tempi sono stretti si parla dell'inaugurazione nella prossima primavera? Assolutamente sì, a fine primavera sicuramente avremo l'inaugurazione dell'intero Bosco Fratino di questa parte che abbiamo iniziato a cui poi ne seguiranno successivamente anche altri È stato un successo l'edizione 2023 dell'Arezzo Classic Motors Ci sono quattro invenzioni che hanno cambiato il mondo l'hanno reso migliore e hanno reso più felice l'uomo che sono l'invenzione dell'elettricità, l'invenzione della radio, l'invenzione del telefono e il motore Ha spento 25 candeline Arezzo Classic Motors la mostra dedicata alle due e alle quattro ruote d'epoca Il piatteso del centro Italia nonché tradizionalmente il primo appuntamento italiano del settore presenti infine anche uno spazio dedicato ai mezzi agricoli Inizialmente si avvicinano per la curiosità dopo però noi cerchiamo di coinvolgerli e qualche volta li placchiamo proprio perché abbiamo bisogno dei giovani e devo dire che una volta entrati però dopo sono in grado di sviluppare anche culturalmente quelle che sono le nostre tradizioni e il nostro credo Qui io ho nel mio, ecco qui il gagliardetto che è il Kamae, noi siamo il Kamae, club amatori macchine agricole d'epoca e qui c'è scritto Motor Est Vita perché sarebbe Motor Est Vita che era un motto di Aristotele ma noi l'abbiamo cambiato e è diventato Motor Est Vita come per esempio noi stiamo studiando un altro sempre partendo dalla tradizione latina Tractor Fortitude Omea Il trattore è la mia forza e questa è la forza dell'umanità anche questo veramente va propagandato, va promosso Ci sono, avete dei mezzi che sono anche assolutamente rari Come per esempio qui dietro il motore testa calda Il motore testa calda ha avuto un successo in Italia perché era a basso costo ed era un qualche cosa di musicale Le nostre campagne senza il motore testa calda non sarebbero state quelle che sono e noi abbiamo preservato proprio e salvato e salvato queste macchine, questi motori dalle fonderie perché c'è stato un momento dove il motore a testa calda era considerato zero quindi era praticamente da fondere ecco, io fra questi io come dire un merito che ha avuto il Kamae è stato quello di preservare e poi tra l'altro anche all'esterno avete allestito un angolo molto particolare dove cercate anche di rianimare i motori che hanno ormai tanto, tanto tempo Ecco, questa è una cosa emozionante perché lo può capire soltanto chi si lavora l'ha appassionato, l'ha appassionato perché vedere ripartire, rimettere in moto un motore fermo da tanti anni che era stato abbandonato è una cosa veramente incredibile è un'emozione che non si può descrivere Inizia con il botto il 2023 al Teatro Virginian con una prima nazionale Al Teatro Virginian di Arezzo la prima nazionale di Gramsci la nuova produzione targata la fila Soccola che vede come protagonisti Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni uno scoppiettante trio di attori da anni nel caso dei delitti del Berlume È una satira un po' abbastanza nichilista di un aspetto politico che pian piano si va sempre più verso una forma di perdita completamente di ideali e abbiamo preso questa icona del partito comunista che è Gramsci inserito poi in un contesto borghese Abbiamo deciso di accoglierla nella nostra famiglia Non ci credo Ma è vero Tu cosa ne pensi? Un testo contemporaneo ed irriverente che dà vita ad uno spettacolo dai ritmi comici serrati liberamente ispirato a Ivona principessa di Borgogna E c'è questo ricco figlio ricco figlio ereditiere di una famiglia molto borghese che si innamora di questa donna e questa donna appunto in modo surreale questa statua di Gramsci Baciatela Fatelo se siete sinceri Certo Certo Ti dispiace cara? No caro è tua figlia adesso Prego papi Ecco Ti dispiace Petra Senti È particolare Non è bella a vedersi quindi insomma non è proprio il massimo però è una roba devi per far vedere che veramente ami questa statua devi fare un po' più di fatica piuttosto che innamorarsi di una donna normale in carne ed ossa ecco quindi insomma poi non è nemmeno fantastica a livello nasale però è una bella ragazza insomma Passiamo alla pagina dello sport una storia impossibile ha vinto nella categoria miglior film sportivo al Fox International Film Festival prodotto dall'Arezzo Calcio Femminile e dall'Agenzia di Comunicazione Atlantide il film racconta la stagione 2021-2022 della squadra di calcio femminile appunto Arezzo Calcio Femminile dei giorni estivi del ritiro fino alla gloriosa vittoria del campionato e la promozione in Serie B oltre alla soddisfazione per l'eccellente risultato ottenuto a livello calcistico ha dichiarato il Presidente Massimo Anselmi sono davvero contento che sia stato riscontrato anche una risposta più che positiva per quanto riguarda il racconto che ne è stato fatto questa per stasera l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci grazie a tutti